Voglio salutare GGG, il mio amico, so che oggi ha postato delle foto sul forum caccessetter.com, il nostro forum, un forum di successo, non vedo l'ora di tornare a casa per guardare le sue foto, sono foto che ha fatto da Cavaglià nei giorni passati dove è andato per una escursione con i cani, Cavaglià, proprietario di Raul, di Lupin dello Zorino che saluto, così come saluto Andrea e Davide, i suoi figli, complimenti per i vostri cani e spero che presto ci incontreremo.